Sono il commissario logato della squadra omicidi, ci troviamo in un'isola dei mari del sud, nel senso che siamo a Favignar, che è un'isola della Sicilia, dove sto indagando su un efferato delitto, la fine del mondo. Volevo chiedervi una cosa. Dove si trovava vostra sandità la sera in cui fu commesso delitto? Macchie di sangue dappertutto, l'arma del delitto, due bicchieri macchiati di rossetto. Hanno bevuto due donne. Oppure una donna che ha bevuto nei due bicchieri. Non ce l'avevo pensato. Acuto, commissario. Chi ha ammazzato Vilma la Rossa, che sarebbe questa bella ragazza? Il misterioso ingegnere Bellugi? La sua bella moglie? Signore, io non ho nessuna voglia di scherzare, qui si tratta di omicidio. Voglio solo sapere se lei è l'amante di questo Arpuni o no. Ma nemmeno per sogno. E vuole sapere perché? Sentiamo. Perché l'architetto Arpuni è l'amante di mio marito. Forse l'architetto Arpuni. Commissario, deve sapere che qui al villaggio io ho una relazione con una persona sposata. Adesso basta che lei mi dice il nome di questa persona. Ah no, la prego, commissario, non posso. Commetto che c'ha le mani legate? Ovvio. Io lo sapevo, io gliele leggo completamente. Arpitetto, così facciamo molto prima. Andiamo. Fermo a farlo! E sei stato un giornalista pazzo? Che faccia con la danna? Curiosavo. Curiosare fa parte del mio mestiere. E se invece è stato questo, il dendista di Bolzerra, perché la chiamano Bazzucca? Perché la natura è stata molto generosa con me. Oppure il bagnino scopatore. Con sto fisico. Con sto viso. So se mi capisci. Ammazza che muscoloni che c'hai, eh? Manco lei, il chierza, eh? Ma lei è proprio di Torino? Non proprio di Torino. Io sono nativo di Polignano a mare, provincia di Balea. Ah, io sentivo rosa, cosa? Però mi sento piemontese dentro. Ah, e quando mi prendono per il culo a me, io divendo una becchia perone. Mi si rigidisce tutta la cartillagine di questa mano destra e sono capace di tutto. Diventa come una lama d'acciaio. Io ti do una botte che ti spezzo la vertebra della carotide, capito? E adesso stami bene a sentire, stronti. Come questo, un giallo, un giallo, un giallo, un giallo, un giallo, non si può. Io sono un pazzo e ti racconto il finale. Che sei? Tu mi fai male. Mi lascia un po' con il domani che quando tramontari Oh, oh, la città. Chiero? Non voglio torrire. Oh, oh, la città. Oh, la città. Grazie a tutti.